In collaborazione con Galleria degli Sposi, via Roma 123, Montevarchi. Ciao Angie, come va? Bene! Ciao, piacere! Come sai, ci sposiamo. Siamo venuti da te per le partecipazioni. Senti, ti faccio vedere le bombogneri prima. Sì, vieni! I bonfetti dietro. Sennò quest'anno ci sono anche quelli tisani. Sì, sono un pochino più originali rispetto alle solite bombogniere, vedi? Con i confettini sempre sfumati magari del colore del tappino. Senti Martina, per quanto riguarda le partecipazioni, è un pochino più originali rispetto alle solite bombogniere, vedi? Sì, 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 vedi? Sì. Sì, Martina, per quanto riguarda le partecipazioni? Sì, ho anche quelle, venite, vi consiglio qualcosa. Guardate ragazzi, per quanto riguarda le partecipazioni, vi potrei consigliare questa. Allora, guarda, qui puoi scegliere tutto il carattere, i colori per le vostre partecipazioni e poi guarda. Gli stili. Ci sono, sì, tutti gli stili, vedi? Tu vai da quelle più semplici, vedi? Anche questa bellina, quelle un pochino più complesse. Però sono molto belline, le stili. Vedi? Volendoci si può fare incidere le vostre iniziali. Sono molto solide, però carina. Sì, sì, ce ne sono tante, vedi? Anche questa tutta stampata. Qui tutte le iniziali possono essere incisi, eh? Ma avete bisogno anche dei tablo, per i segnaposti, per i tavoli del ristorante. Vedi, qui puoi scegliere questi, se ti piace vedi gli animali, se ti piace vedi i fiori, le farfalle, questi vengono tutti stampati. Quindi, se no io li faccio anche proprio a mano, sì, li personalizzo proprio lì. Poi oltre a questo è possibile anche i coni per il riso, se ne avevate bisogno, che ci sono. Guarda, te li faccio vedere. Vedi? Ci sono di vari colori, in più ti mettono la stampa, cioè con il vostro nome inciso. È il riso trattato, quindi non macchia, perché gli è stato tolto l'amido. Quindi non macchia, quindi ve ne possono tirare tantissimo. Ciao Martina, ora ci troviamo per il matrimonio. A voglia, certo, grazie mille, grazie. Ok, a presto. Ciao, ciao. In collaborazione con Galleria degli Sposi, via Roma 123, Montevarchi.